Buonasera amici di Rugby House, dovevano essere 5 punti, 5 punti sono stati. Secondo posto in classifica insieme a Sandonà e in compagnia anche di una squadra molto importante che sta comportando veramente bene, che è il Petrarca Padua di cui ne parleremo oggi. Oggi parleremo non solo di quanto è successo sabato scorso, ma di quello che accadrà anche domenica prossima. Arrivano i test match in novembre per cui l'eccellenza slitta di un giorno e lo facciamo con lui che non poteva mancare. È stato nominato settimana scorsa, operativo in questi giorni. Umberto Casellato, bentornato. Buonasera a tutti, grazie. Poi ovviamente un amico che ritorna a Rugby House, allenatore del Petrarca Cadetta, insomma uno che ne sa e conosce molto bene quello che capita nel campionato di eccellenza e non solo, Rocco Salvancio. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Allora Umberto, bentornato tra noi, chi l'avrebbe mai detto? Mai dire mai, è una buona opportunità per me, così sia stato un fulmine a ciel sereno, abbiamo fatto delle valutazioni, ho pensato, ho pensato quel presidente, ci siamo dati un termine e vediamo dopo se questo fa bene prima la squadra, perché viene prima di tutto la squadra, prima di qualsiasi cosa. Se farà bene la squadra continueremo. Adesso sono molto eccitato, carico, perché fare delle cose nuove, conoscere dei giocatori molto giovani, dove è bello anche lavorare perché ti danno tanto dal punto di vista dell'impegno. Penso che sia stimolante per tutti, mi auguro che sia una cosa positiva. Questi primi giorni come sono andati? L'entusiasmo c'è? Sono ricettivi? Come sono i ragazzi? Sì, sì, ho cercato di entrare in confidenza con loro, di farli sentire a proprio agio tutti. Alcuni, sai, sono molto molto giovani che quando ho iniziato a giocare forse non sono neanche qualcuno, anzi, sicuramente qualcuno non era nato. Quindi dai bene, bene, sono contento. Adesso la parte più difficile, i risultati. Sto pensando alla stagione che tu hai fatto qui, Modena aveva 11 anni, faceva le medie o le acquinte elementari, per questo, per fare i paragoni di questo tipo. Rocco, insomma, Umberto Rovigo può dare una mano importante, può aiutare il club? Senza dubbio, è un valore aggiunto ad una squadra che è vera, è una squadra molto giovane, però è una squadra che io ho visto giocare diverse volte quest'anno e ha delle potenzialità importanti. È una squadra con dei giocatori che hanno raggiunto la maturità, finalmente. Parlo dei ragazzi del 90, del 92, che sono probabilmente all'apice della loro carriera e sicuramente Umberto aiuterà la squadra a far bene e a prendersi delle soddisfazioni. Ecco, Umberto, qual è, se possiamo chiedertelo, il focus di queste prime giornate? In testa tua, qual è l'obiettivo da raggiungere con questi ragazzi? Beh, abbiamo visto tecnicamente qualcosa che c'è da migliorare, in cui bisogna lavorare. Adesso un po', dal punto di vista tecnico, dei tre quarti, quali sono un po' individualmente, quali sono le carenze che ognuno ha, dove deve lavorare. Adesso abbiamo fatto un primo programma, bisogna stare attenti, perché ci sono due partite molto importanti, per cui bisogna cercare di mantenere la confidenza che c'è nella squadra, bisogna stravolgere gli equilibri che ci sono. Ci sono dei giocatori che hanno avuto continuità, che stanno dando dei buoni risultati. Leo per primo, lì ha il numero 10, per cui bisogna solo farlo sentire ancora più confidente. Sono due partite molto dure, dove bisogna cambiare poco, cercare di aiutarli a stare sereni e andare in un campo difficile in questo momento. e dopo è l'altra partita. Il Calvisano non ha bisogno di nessuna presentazione. Ecco, Umberto, venendo un attimo a questi tuoi primi step, le domande che ovviamente il web, i tifosi, erano più o meno le stesse, tra cui come sarà l'assetto con Gionis, su quale sarà il tipo di coordinamento che avrete voi? Beh, l'ho conosciuto poco, è da una settimana che ci conosciamo. Io credo molto in... sono molto cambiato, perché così deve essere nella formazione tecnica di un allenatore, comunque di un professionista. Sono molto cambiato, penso che in questo momento nessun coach può far da solo. bisogna condividere, condividere con tutti, veramente con tutti qualsiasi esperienza e quindi penso che io posso dare a gioco qualcosa come lui può dare a me, anzi che penso che ho assistito a... cerco di assistere alle riunioni di mischia che fa, di touche, perché mi interessa molto e può essere complementare le due cose, magari un'idea mi viene a me da dare a lui e non penso che ci siano nessun problema. So qual è il mio ruolo qui, l'importante sono uno che sono molto... quadrato, metodico e quindi non penso ci sia nessun problema. ma io so quali sono i miei spazi e il capo allenatore è Joe e penso che non ci siano problemi. Ecco Rocco, Umberto ha detto una cosa molto interessante. Nel rugby contemporaneo due coach sono il minimo per poter portare avanti una squadra, la condivisione resta fondamentale, funzionale al club. Certo, ma Umberto lo sa bene perché ha vissuto il rugby vero, quello di alto livello e là sappiamo che gli allenatori un po' si sprecano, nel senso che sono dei veri e propri team, sono una squadra al seguito della squadra e le esperienze di cui lui parlava sono fondamentali perché comunque è vasto il campo di cui si parla e in squadre, soprattutto in squadre giovani, c'è bisogno veramente di tanto. C'è la necessità di seguire i ragazzi da un punto di vista tecnico, da un punto di vista tattico, da un punto di vista soprattutto mentale. e quando prima parlava di mettere i ragazzi a proprio agio, credo che soprattutto ancora nel rugby nostro sia di vitale importanza. Ecco, Rocco, tu hai visto Rovigo più volte quest'anno, ho visto che Umberto non si è voluto più di tanto sbilanciare su quello che sono le sue idee, giustamente tutto il resto. Cosa pensi di quello che potrà dare tecnicamente come visione Umberto alla squadra? Beh, Rovigo, io ti dico, l'ho visto, l'ho visto, lo vedo sempre da bordo campo, molto da vicino, e ho visto dei ragazzi, c'è stato qualcuno che mi ha ben impressionato, ti faccio un paio di nomi che magari così dico cose scontate, piuttosto che mi sto sbagliando perché comunque è una visione esterna, non li posso seguire, non li vedo tutti i giorni, ma davanti per esempio Ortis mi ha fatto una grandissima impressione nella partita contro Viadana. Credo che sia un ragazzo sul quale investire e sul quale si possa investire anche a livello di responsabilità. Dietro per esempio io ho visto un giocatore che era un po' che non vedevo, così brillante che è Cioffi. Sono giocatori, per esempio questi qua, che possono trovare molto più spazio all'interno della squadra e giocatori che possono dare un apporto sicuramente maggiore. Ti ho fatto due nomi su tutti, però magari ce ne sono altri che possono fare altrettanto bene o forse di più. Ritornando un po' alla Lazio, visto che comunque Robigo ha appena vinto sabato scorso con la Lazio, 5 punti, la prima vittoria con bonus della stagione, una partita finita troppo in fretta per giudicare la Lazio. Sappiamo che in trasferta non è proprio un'ira di Dio e si è dimostrato anche sabato scorso. Sì, è una partita che è iniziata subito bene. Queste sono le partite che se non inizi bene le tieni in partita, fai difficoltà, prendono confidenza loro, magari si esaltano. È stato molto bravo la squadra, quadrata, fare quello che doveva fare, è entrata subito in partita, ha fatto capire che non c'era niente da fare, hanno fatto le cose che dovevano fare, sono stati molto essenziali, hanno avuto una buona conquista, hanno fatto la meta subito in drive, in fase statica, sono stati subito performanti, dietro in difesa sono stati presenti. Penso che le partite tante volte, la Lazio è vero in trasferta di qua e di là, però se non la metti subito bene, gli dai la possibilità. Penso che ci siano dei meriti alla squadra, che era molto concentrata, perché tante volte dobbiamo guardare anche le partite a dare ai ragazzi qualcosa di positivo, che quando fanno bene entrano in una partita difficile mentalmente da inquadrare, entrano bene, entrano nella partita come se fossero contro Amogliano o Calvisano, per cui sono stati bravi i ragazzi a entrare con il giusto spirito. Dopo i punti tra il Rovigo e la Lazio sono quelli, sono 50 punti, e sono stati bravi a farle lì. Rocco? Sì, anche secondo me, e soprattutto ho visto una squadra che, pur avendo la vittoria in tasca dopo, forse già a metà del primo tempo, è comunque una squadra che non si è focalizzata solamente sulla superiorità nelle fasi di conquista, quindi mischia e tush, ma è una squadra che comunque ha provato a giocare, sbagliando, però con lo spirito giusto, è una squadra che fino alla fine ha continuato a fare il proprio lavoro, e questo è positivo, perché qui puoi costruire qualcosa, qui cresci. Andiamo a vedere gli highlights della vittoria della FEMICZ Rugby Rovigo Dette di sabato scorso contro la Lazio, poi rientriamo in studio e cominciamo a parlare della trasferta non semplice a Amogliano. Il meteo è previsto dalle 15 alle 16.30, pioggia di punti allo stadio Mario Battaglini per il quinto turno del campionato d'eccellenza, si affrontano FEMICZ Rugby Rovigo Dette e Polisportiva Lazio. Un match da over 50 per gli amanti della scommessa, benvenuto Antonio. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon rugby. La vite da registrare nel motore rosso-blu. Ortis alla presa, si struttura il drive rodigino, cerca la difesa quella della Lazio, ma c'è un buon abbrivio del pack rosso-blu verso la meta ed è Jacques Monberg. Pronto per gli extra point, arrivano altri due punti. Impossibile. Remake della prima meta, cambia il saltatore che è Dolubian, l'ultimo con l'ovale Jacques Monberg, l'abbrivio è buono del Rovigo. Sta andando ancora, è ancora la seconda meta. Jacques Monberg. Coppietta. Prende la rincorsa e modella una palla splendida. Dentro i 22, Killona, ancora per i propri avanti, è Giuseppe Boggiani che pensa sui piedi. E con la continuità. La continuità è diretta su Jacques Monberg che fa strada, altra fase, velocità. Apre tutto e Francesco Modena prova l'unica al traffico. riesce comunque a fare strada il primo centro rosso-blu, non riuscendo a innescare i tre quarti, ma c'è Massimo Cioffi. Sgusciare e andare oltre i placaggi. Leo Mantelli dice oggi è il piede. Vai in avanti. E ottimo lo scicco di Massimo Cioffi. Seconda meta personale, meta del bonus per la pelicizzetta. Rugby, Provigo, Delta, propizia per lui per mettersi in mostra e mettere a disposizione il proprio talento. Sudafricano, terzo blocco, Gullo Zanini. Dentro per Giuseppe Boggiani. È troppo facile. Signoranza. Leo Mantelli mette anche questa, 35-0. Insaccoccio l'ovale e renderlo disponibile agli altri. Attenzione, buco centrale di Sebaios alla corsa di Cioffi che va a rincorrere direttamente. Buona volontà. È buona la corsa di buona volontà che va a segnare. Lui che praticamente ha dato il là a questa... Adesso l'abbiamo capito, quindi... Rovigo avanza ancora. Il pallone ripete Matteo Ferro. Metta tecnica è Rovigo. Per la squadra rosso-blu. La presa di PJ Parker. Si struttura il drive avanzante. Qui l'abbrivo è perfetto. Pucignat. Per la meta. Rodigina. Tende l'aria in corsa il mediano rosso-blu. È buona, eh? È la in fila. È bravo Albertino. Il team di Montella prova. È bravissimo. Antol. È bravissimo, sì, perché è proprio da seven questo. Proprio fermo sul posto, andando a depositare la palla in area di meta. E qui si chiude il match con la Femme CZ Rugby Rugodelta, vittoriosa sul Polisportiva Lazio per 49 a 12. Bentornati in studio dopo le immagini della vittoria contro la Lazio. Umberto. Chiamiamolo destino? Chiamiamolo... Fatto? Chiamolo come vuoi. Stati Fatto, insomma, che è la prima contro... Possiamo anche definire un po' il tuo, Mogliano, ecco. Sì, ormai il mio... C'è poco. Poca roba, poca roba. Due giocatori, ci sono due o tre giocatori, poi la dirigenza è cambiata in toto. Non so, forse il custode saluterò, perché il resto non conosco più di tante persone. Questo è chiaro. Sono partiti male, però non dobbiamo sottovalutare questa partita, perché col Petrarca hanno avuto l'ultimo pallone per vincere la partita a un metro dalla meta. È vero che le ultime due sia con Firenze che col Sandonà li hanno persi di molto. Col Firenze gli è andata tutto, tutto male, tutto. Il rimbalzo che gli è andato al Firenze, Stefan ha fatto una partita super. Jeff ha giocato bene, sono quelle che dopo, perdendo partite e partite, se riesci a fargli il gap, è difficile di testa stare in partita. E quello sarà il challenge per questa settimana, cercare di metterli subito sotto, come hanno fatto i ragazzi con la Lazio, cercare di essere molto quadrati, di andare subito a fare punti e di fargli venire dei problemi in testa. Perché quando perdi anche di poco, di tanto, la testa non è poi tanto a posto, è capace di reagire. Umberto, tra l'altro, sui giornali di Mogliano, di Treviso, anche la società si è esposta criticando un po' i senatori, i giocatori di esperienza, dicendo che non ci aspettavamo un rendimento così scadente, però sotto gli standard di questi giocatori importanti. È una posizione in una società importante, perché raramente capita che in club non, diciamo, blasonati, ma può essere il nostro Petrarca, succede qualcosa del genere. Un sintomo che comunque c'è qualcosa che non va. Sì, però io parto sempre da un presupposto che se c'è qualcosa che va male, l'esame di coscienza devono farlo un po' tutti quanti, la dirigenza, il presidente, il direttore sportivo. Io non conosco bene le dinamiche, non so, non voglio saperle, ma partiamo. Quando è stata costruita la squadra, che strumenti li dai ai giocatori per vincere, ci sono tante cose che passano per una vittoria, una sconfitta o una serie di vittorie, una serie di sconfitte. Chiaramente io non sono, parto sempre da un presupposto, anche professionalmente parlando, se c'è un problema dobbiamo prima trovarlo, ma a 360 gradi. Non dobbiamo guardare solo... La punta dell'esame, insomma. Non è sempre così, è la stessa cosa l'Italia che perde o le franchigie che perdono, sì. Ma il rugby di base cosa facciamo? Faccio per dire un esempio. Tutti, qual è la causa? C'è l'effetto causa-consequenza. Che allora, dopo ripeto, è difficile parlare in casa, faccio difficoltà, non è mia abitudine parlare in casa da altri. Se non vivi il quotidiano in un club, è difficile dire una cosa. Certo. Rocco, secondo te, quale sarà la chiave del match a Mogliano per Rovigo? Ma credo anch'io che sarà subito quello di partire forte e di stabilire immediatamente le gerarchie. Mogliano so che ha fatto una grande partita, oltre che con il Petrarca, anche giù a Roma con le Fiamme Oro. E poi però è incappata in qualche passo falso, veramente pesante. Per cui credo che, sì, per tornare un po' a quello che diceva Umberto, Rovigo dovrà concentrarsi più che sul Mogliano, dovrà solamente concentrarsi su quello che è il suo di lavoro, su quello che deve fare lui fatto bene, e non credo avrà grossi problemi. Ecco, parallelamente a quanto sta succedendo a Mogliano, tu Rocco stai vivendo una situazione veramente diversa. Un Petrarca che vive un ottimo momento, soprattutto c'è un clima molto più sereno e un Petrarca che sta mettendo sul piatto un carattere che era da un po' di tempo che non si vedeva. Per cui un buon momento anche per la squadra di Marcato, che tu vivi in maniera più o meno diretta, era un po' nelle aspettative, secondo te questo è un po' una sorpresa? Sebbene ci siano tanti infortuni, per dire. Sì, credo sia un momento un po' particolare, perché l'idea era quella di un ridimensionamento della squadra rispetto all'anno scorso, la scelta anche di non prendere tutti gli stranieri era stata vista un po' come ok, vediamo come va e poi eventualmente aggiustiamo. Credo che invece sia stata trasferita la squadra da parte dello staff, ma credo di Andrè in particolare, perché bisogna riconoscerglielo, abbia trasferito alla squadra proprio un po' di responsabilità, un po' di responsabilità in più, mettendo proprio i ragazzi là davanti e loro hanno reagito bene, parlavamo prima e dicevamo che è una squadra che comunque lavora il gruppo forte, lavora insieme da 5-6 anni. Partito con te e con Moretti. Sì, 6 anni fa, quando sai, nel 2012 il gruppo forte era dei 92, che avevano 20 anni, 6 anni, sono 6 anni di esperienza, 6 anni importanti, e c'è qualcuno che in questo momento sta veramente facendo bene. Anche qua posso farti un esempio, il manniti della situazione, criticato da tutta Italia perché non è un'apertura, le ultime tre partite le ha giocate a apertura e ha giocato una partita meglio dell'altra. E questo vuol dire che sei sereno, vuol dire che sei tranquillo, in una situazione di emergenza, perché ci sono un sacco di infortunati, e infortuni anche abbastanza gravi, perché si parla di mani rotte, si parla di spalle, di ginocchia, cioè non sono così né semplici. Però la squadra sta reagendo bene, domenica sono andati praticamente contati, in panchina c'erano un paio di giocatori che neanche dovevano entrare, per problemi fisici, e invece alla fine entrano e danno quel quid in più per portare a casa un risultato, secondo me fondamentale, poi nella corsa a play-off. Molto importante, di certo la vittoria del Petrarca con le fiamme. Per cui è tutto legato stasera, si parla di fiamme, Umberto. Prima vado da te, poi ritrovo da Rocco, perché la casa è quella, perché noi non scappiamo. La casa è quella, siamo stati nella stessa casa. Certo. Per adesso un po' la delusione, sicuramente sono le fiamme che non stanno mantenendo quanto erano le aspettative inizio stagione. È così difficile lavorare là, Umberto? Sì, abbastanza, però bisogna fare alla fine, ci sono ancora molte partite, penso che cambiare ogni anno allenatore per i ragazzi è diverso, sicuramente Gianluca Guidi ha un sistema diverso, molto diverso dal mio, penso anche un approccio alla partita, a quello che è l'allenamento, anche alla vita di tutti i giorni con i ragazzi, perché lì si parla di vita di tutti i giorni con i ragazzi, cioè ci vediamo su 24 ore, ci vediamo 18 ore, perché sei lì, sei immensa. Da una parte, magari, ti dico io, inizialmente ho sbagliato l'atteggiamento, sono riuscito a aggiustare alla fine, avevo un buon feeling con tutto, con l'ambiente, prima di tutto con la squadra, che è la cosa più importante per vedere dopo i risultati in campo, dopo anche con tutti, con tutto lo staff, avevo raggiunto un buon feeling, sai, inizialmente avevo sbagliato, ti dico, io lascerei ancora uno o due mesi a Gianluca per capire tutto, per aggiustare il tiro, non è facile, però hanno un potenziale che è unico, hanno 47 giocatori rosa, 46, conta che l'Icat è ancora con le zebre, fare il permice, è inimmaginabile, c'è tanta roba, noi abbiamo 23 in panchina più 8, è il mogliano, cioè non è che... Certo, Rocco tu l'hai vissuto da ambo i lati praticamente, ha discorso le fiamme, magari non c'erano tutte, non dico questa pressione anche attorno alle fiamme, perché il progetto Fiamme negli ultimi anni si è evoluto in maniera particolare, ha anche un po' di attenzione diversa, è una squadra veramente a sé, e se Umberto dice io inizio ho sbagliato, poi ho capito come fare, pensi che anche Guidi possa aver avuto questa problematica? Ma sicuramente, perché comunque già l'ambiente dove vai a vivere è un ambiente particolare, perché comunque sei all'interno di una caserma e sei lì, cioè è l'unica, probabilmente vera squadra professionista di questo campionato, e sono tanti giocatori, è vero questo, e quindi più gente sei, più edificio trova gli equilibri di cui parlava Umberto prima, sicuramente, però sta di fatto che comunque Fiammeoro ha perso già due scontri diretti in casa, ha perso con Calvisano e ha perso con Padova, e domenica ospita Via Dana, se non sbaglio, e sai, sì, diamogli pure il tempo di aggiustare, però comunque non è una potenza straordinaria che a ritorno può pensare di andare a vincere a Calvisano, piuttosto, cioè, fare un filotto come è stato, non so, per il Mogliano che ha vinto lo Scudetto, piuttosto che l'anno che è stato qua Umberto con Rovigo. Credo che Fiammeoro abbia un problemino in mediana, si è rotto Marinaro a nove e sta giocando questo ragazzo Parisotto, che è un ragazzo sicuramente interessante, ma è un giovane, e che non abbia questo dieci così fuori classe come invece hanno altre squadre. Lì probabilmente è un po' il punto debole di Fiammeoro, poi per il resto hanno veramente tanto potenziale. Andiamo a vedere le news che arrivano dagli altri campi del campionato di eccellenza, poi ritorniamo per l'ultima parte di Rugby House. 16 punti di differenza dopo 5 giornate, non serve molto altro per raccontare lo scenario in cui 30 del Quaggia si muoveranno domenica o pomeriggio con Mogliano padrone di casa nella parte del naufrago disperatamente aggrappato al tronco alla deriva e Rovigo in quella del Corsaro pronto ad affondarlo senza alcuna remora. Secondo derby di fila, quello dei Bianco Blu, reduci dalla brutta sconfitta in casa Sandonà e per Mogliano la sequenza delle partite sbagliate al momento sbagliato comincia ad assumere un carattere preoccupante. Al Pacifici la squadra di Dallanora ha evidenziato un atteggiamento ai limiti della patologia bipolare con almeno 65 minuti gestiti alla pari con i veneziani ed un ultimo quarto d'ora di blackout fisico e mentale che hanno determinato la quinta sconfitta consecutiva tanto più pesante quanto senza punti di riferimento da cui partire per costruire una soluzione. Il tarlo della sconfitta è l'incubo di ogni atleta, un meccanismo subdolo che corrode l'autostima impedendo di gestire le difficoltà in modo costruttivo e a Mogliano il rischio è esattamente questo un trenino di sole sconfitte che parte dall'inizio della pre-season ma che in realtà origina dalla coda della stagione scorsa per un totale di zero successi negli ultimi 12 match che comincia ad essere un dato seriamente preoccupante. Coach Dallanora ha più volte lamentato l'assenza di leadership anche se finché era in partita contro la Laffert Mogliano ha messo in mostra elementi di sostanza come Padrò e Visentin mentre per il francese Mornas il giudizio non può che rimanere sospeso non avendo ancora inciso come nelle attese positivo e molto il rientro del numero 8 sudafricano Alvorsen tornato nella marca dopo un anno sabbatico è pronto a riprendere in mano la squadra con il conserto contributo in metri Dall'altra parte un Rovigo che sembra aver assorbito bene il terremoto all'interno dello staff registrato nelle scorse settimane la squadra si è liberata in scioltezza dalla pratica Lazio mostrando una buona confidenza con il proprio gioco dopo che la settimana prima in casa con Viadana alcune dinamiche erano piaciute molto meno messe di fronte ad un avversario oggettivamente di altro livello rispetto ai capitolini contro il Mogliano di questo periodo Rovigo non può comunque concedersi passi falsi c'è una classifica da mantenere calda e ci sono equilibri tecnici da affinare in un test che sulla carta suona facile ma che sul campo potrebbe essere tutt'altro considerato anche l'elemento del meteo che potrebbe portare la gara su un piano di battaglia a terra più gradito agli ospitanti kick off eccezionalmente domenica alle 15 arbitra il signor Trentin di Lecco sabato c'è l'Italia Catania e col pomeriggio l'unico colore ammesso è l'azzurro la sesta giornata del campionato eccellenza avrà nel match del Patastadium tra Calvisano e Sandonà la propria sfida più importante di fronte la capolista imbattuta Calvisano che guida la classifica con 23 punti e Sandonà una delle tre squadre invece che appartengono al gruppo del secondo posto Calvisano arriva al match a riduce da due vittorie non convincenti la prima contro Petrarca e la seconda contro Viadana arrivata nell'ultimo weekend con un drop di Noviglio allo scadere Sandonà invece ha confermato e migliorato fin qui il buon livello di gioco dello scorso anno ed è riduce dalla larga vittoria nel derby veneto ottenuta contro Mogliano fin qui la squadra di Hansel è stata sconfitta solamente la prima giornata contro Viadana e arriva adesso per la squadra del Piave un trittico di impegni che dirà molto sulle reali ambizioni della squadra che affronterà nell'ordine dopo Calvisano il Petrarca e le Fiamme Oro da parte sua Calvisano invece dovrà ricercare gli equilibri e il ritmo di gioco che sono mancati negli ultimi 160 minuti di campionato e ritrovare anche un dominio degli avanti che non sembra più netto come quello della scorsa stagione ma il vantaggio territoriale e la maggiore esperienza della squadra bresciana dovrebbero far pendere il pronostico proprio a favore dei gialloneri di Coach Brunello a volte ritornano è davvero il caso per Pasquale Presutti che a 67 anni si presenta ancora nelle vesti di allenatore avversario con una nuova squadra nel club dove ha vinto Scudetti sia da giocatore sia da allenatore quello del 2011 a Rovigo proprio tra le file dei Rosso Blu l'esperto tecnico dei Medicei ha pescato alcuni dei suoi asti da Bastonna Montariol da Marana McCann con cui far volare anche in eccellenza i Toscani che si presenteranno a Padova forti di 15 punti sesti in classifica e pronti a dare l'assalto al fortino del Petrarca si giocherà domenica alle 15 agli ordini dell'arbitro Piardi di Brescia al centro sportivo Geremia la squadra di Padova dovrà difendere il secondo posto in classifica condiviso con Rovigo e Sandonà a 18 punti dalla Verdi questa neopromossa che ha il piglio della protagonista i tecnici Petrarchini Marcato e Allori dovranno fare anche i conti con l'infermeria piena di acciaccati eccellenti come Bernini Micheletto Nostran Riera e Rizzi oltre agli infortunati di lungo corso come Ragusi e sua Ok ultima parte di Rugby House Umberto a me ha colpito un paio hanno colpito un paio di passaggi di questa trasmissione ho detto io sono un po' cambiato io ho sbagliato le fiamme poi ripreso in mano un po' la situazione insomma 2010-2017 Rovigo avrà un altro casellato? me lo auguro anch'io no me lo auguro sia dal punto di vista tecnico che sicuramente sono mi sento migliorato mi sento migliorato come come persona perché uno sono molto più vecchio quello è 7 anni più per tutti esatto e in più perché ho avuto delle esperienze negative che mi hanno che mi hanno insegnato mi hanno e mi hanno formato ho trovato degli allenatori anch'io che mi hanno allenato per reagire in determinate situazioni perché che non avevo mai fatto prima perché c'è stato un periodo nella mia vita che ho avuto dei problemi hai dei forti dubbi se sai fare il tuo lavoro cosa per cui ho trovato un allenatore che che mi ha aiutato allenatore un coach per me che mi aiuta qualche volta lo sento mi dice quali sono quali devono essere i miei focus come devo comportarmi a Roma a metà stagione ho chiamato ho discusso con lui uno che mi allena perché tante volte gli allenatori allenano e nessuno allena gli allenatori è un problema quello certo tecnicamente Umberto Tuerso voglio dire dopo Rovigo hai avuto la gioia dello scudetto mogliano hai avuto le esperienze Zebre Benetton in Celtic hai fatto veramente un percorso sempre in crescendo come posso dire questa è una sfida anche per trovare motivazioni probabilmente poteva essere la la meta ideale la location ideale c'era qualcosa in sospeso tra te e Rovigo? un po' tutto penso che sia la la sfida più grande per me è quella di in due giorni a settimana di di cercare di incidere di dare una mano a Joe e i tre quarti in maniera importante quella è la grande sfida non è che cerco non cerco nessuna rivincita o cerco stimoli perché io alleno l'Under 12 come alleno la Celtic League basta stare in un campo a rugby insegnare condividere con allenatori quest'estate ho fatto un giro per l'Italia a fare del coaching mi sono divertito ho mangiato tanto ho bevuto altrettanto e quello è il male del rugby però non cerco di vincere cerco di è qualcosa di nuovo cercare di incidere dare una mano a Joe mi è piaciuto tanto anche la squadra giovane tre quarti molto giovani dove magari hai maggior possibilità di entrarli dentro e di creargli un qualcosa dargli una mano per il per il loro futuro da spero in Celtic e poi in in nazionale dico Cioffi Ortis come ha detto lui ha detto due nomi che gli ho detto a Joe porca miseria che i giocatori non pensavano hanno giocato veramente bene da con intensità sono entrati proprio intelligenza skills aerea Ortis prendere il pallone sono rimasto non li conoscevo in quella maniera sono stato molto contento però penso che sia una sfida ma nessuna rivincita niente è stata una cosa che è nata così a prescindere dalla rivincita qualcosa in sospeso non deve essere sempre nella sezione negativa c'è sempre anche un affetto un legame che comunque ok certo certo resta legato no chiaro arrivi a Rovigo cosa ti chiedono di partecipare è difficile che ti chiedono di partecipare il risultato è solo uno e si lavora per quello tutti sanno è inutile che ci raccontiamo cose diverse che dobbiamo far crescere i giovani certo Rocco tu hai fatto i nomi lui li ha gli hai replicati Umberto nella sua foto Whatsapp a lui in mezzo a dei ragazzini di 12 anni penso 12 anni insomma ho provato a fare una stima di questo tipo tu hai tu e si la o la ega questo non vuol dire che tu non abbia la propensione dei giovani perché lo stai facendo l'hai fatto però un allenatore come Umberto che magari ha un certo tipo di percorso poi gli danno in mano questa situazione questa possibilità in una piazza così difficile come poi Rovigo insomma resta una bella sfida sì guarda io non sono tanti anni che alleno sono poco più di 10 anni ma ho sempre avuto il piacere di allenare squadre giovani non ho mai allenato le giovanili ma a parte il primo anno qua a Rovigo con la 17 ho sempre allenato però squadre di giovanissimi anche quest'anno sto allenando un under 23 in realtà perché la seconda squadra del Petrarca è una squadra giovanissima e mi ritrovo sono pienamente d'accordo con quello che dice Umberto sono ragazzi che magari sono un po' più grezzi un po' più un po' più difficili da un certo punto di vista che però ti danno tantissimo e ti seguono e sono ragazzi che hanno fame hanno voglia di imparare e questo ti gratifica ti gratifica perché alla fine credo che poi comunque lo sport si rassuma in questo in divertimento e gratificazione per quello che fai altrimenti non saremo gente che perde le ore perde le giornate sui video sui computer sul parlare sul cercare sul sempre mettersi comunque in discussione e qualcuno sta cosa non la capisce no Umberto soprattutto magari a casa quando tu sei matto non puoi svegliarti alle 5 ma è così e poi però ti torna tutto indietro ed è questa la cosa bella di questo sport eh certo sicuramente è appagante il fatto di lavorare con i giovani vedevo anche i vostri occhi mentre ne parlate proprio anche il gusto della costruzione dare un messaggio importante qualcosa di importante a questi ragazzi Umberto i tifosi dicono quali obiettivi hai per Rovio quest'anno l'hai un po' già detto ma non hai i tuoi obiettivi sono gli obiettivi insomma sono gli obiettivi che sono sempre stati qui da 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 sempre ed è giusto che sia così penso che un altro un altro obiettivo possa essere da un punto di vista del gioco fare fare un po' di più con Gio abbiamo abbiamo parlato abbiamo un progetto non si dice ma cerchiamo di di mettere un qualcosa qualche mattoncino in più già a un muro che è abbastanza alto robusto e solido certo Alessandro e c'è dato che il ride prima della sospensione e poi della sostituzione espresse dubbi sul mercato estivo paventando con il roster lei si adeguerà al materiale che c'è già o chiederà di intervenire? beh io ho fatto un allenamento io ho visto un po' anche le altre squadre Calvisano Petrarca io penso che Roby possa competere con i giocatori che abbiamo facciamo la prima fase di campionato dopo penso che senza senza problemi ci si siederà col presidente col direttore sportivo con lo staff tecnico è inutile che ci facciamo la testa ancora prima di aver fatto metà campionato di aver fatto la partita col Calvisano con serenità sarà da prendere delle decisioni dare delle opportunità ai ragazzi che ci sono perché tante volte gli facciamo il processo ancora prima alle intenzioni Matteo Umberto aveva detto che difficilmente sarebbe tornato Rovigo cosa o che progetto l'ha portato a cambiare idea? Tante cose si dicono ma Umberto è cambiato in questi anni quindi tante cose si dicono però Rovigo è una bella piazza c'è tre giorni che sono qui si vive un rugby che ho fatto tutta Italia ho fatto vent'anni che alleno ho fatto ho fatto anche Treviso Celtic League è casa mia e non ho gli attestati di stima di gente che mi ferma per strada che ho Rovigo e sono di Treviso dall'under 8 che gioco a Treviso e non è come essere a Rovigo e ho allenato la mia squadra in Celtic League per cui penso che sia una bella cosa essere tornato era una cosa che mi è piaciuta poi sono una persona che alcune volte va distinto bene c'è anche il bersagliotti ti fa una domanda pensa a te che diventa da orso diventa leone la tastiera in questo caso e dice cosa ti ha colpito maggiormente il reparto arretrato che comincerai ad allenare in questi giorni e delle partite insomma che hai visto finora un po' hai già risposto sì ho visto un po' tutte le partite ho visto un po' delle cose che che dobbiamo migliorare le abbiamo discusse con i ragazzi adesso abbiamo un focus piacerebbe parlato di usare un po' più la continuità diretta gli offload cercare di di evitare troppi punti di incontro adesso il rugby moderno è la palla non deve essere mai in contesa e più la metti in contesa e più dai la possibilità alla difesa comunque di rallentare il pallone e di rischierarsi penso che Calvisano in questo momento e anche l'altrano quando lo studiavo con le fiamme dal punto di vista della continuità diretta gli offload ti ammazza dopo Pettinelli Chiesa dopo Minozzi nel gioco rotto nella continuità hanno ammazzato il campionato l'altrano Bruno lo stesso Ala sono molto bravi bisognerà un po' lavorare in quella direzione la cercare di dare un po' di più offload più continuità diretta ok Rocco Umberto parlava di Calvisano tanto parlava di Pettinelli che insomma gli vogliamo di riprendere a breve un infortunio alla mano proprio non ci sarà al 19 non c'è nemmeno la finale scudetto dire il vero è uno dei giocatori più interessanti sicuramente dell'eccellenza però non sembra il Calvisano dell'anno scorso vuoi qualche infortunio ce l'hanno anche loro per carità però non mi sembra che i cambi specialmente là davanti siano alla stessa altezza di coloro che sono partiti sì però io aspetterei un attimino probabilmente hanno necessità anche loro di ritrovare un po' di nuovi equilibri un po' di fluidità ho visto che non ho visto tanto di Calvisano ho seguito ho visto i tabellini ho visto che più di qualche partita i titolari i migliori sono partiti dalla panchina per cui probabilmente sta giocando anche un po' a nascondino in questo momento massimo e io credo che invece siano il target siano la squadra da prendere appunto come esempio e si debba andare oltre quello oltre quello secondo me c'è la vittoria Chiara analisi Umberto? Assolutamente sì non è facile sostituire gente come Gian Marioli Minozzi sono giocatori che sono di nazionale maggiore si vede infatti il cammino che hanno fatto non è che sia facile entrare vai sono giocatori di alto livello e che hanno fatto la differenza l'altro anno e adesso magari gli altri ci vuole un po' più di tempo però penso che sia ripeto la squadra da battere sicuramente i riferimenti sono sempre loro sì purtroppo sì però noi partiamo da qui perché questo penso sia il messaggio che passa oggi da Rugby House con i nostri ospiti per cui l'appuntamento è al Quaggio di Mogliano domenica ore 15 arrivano i test match di novembre non abbiamo parlato di nazionale ma insomma ne parleremo avremo modo c'è Umberto c'è Rocco c'è una bandiera importante per cui affronteremo la prossima settimana anche questo diciamo Quaggio 15 Rovigo affronta Mogliano un'altra sfida importante per questo campionato di eccellenza grazie Umberto e bentornato grazie a voi Rocco è sempre un piacere anche per me grazie a voi ci vediamo domenica al Quaggia buonotte